Una serata di beneficenza venerdì 18 gennaio alla Principe in favore di tre associazioni del territorio Aretino. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa serata? Dunque, questa è un'idea nata alla taverna del musicista, dal seve tra amici musicisti. Quindi è una serata che da musicisti sei band Aretino suoneranno al Principe venerdì sera. Tutto il ricavato andrà a tre associazioni benemerite che utilizzano questi fondi per realizzare opere nel Tevenin, per la struttura interna, per un ascensore, i ragazzi militari del Congo, un'altra associazione, e poi quella del professor Italo Fardetani che ha ideato la costruzione di un ospedale in Kenya. Quindi una serata all'insegna della beneficenza. Sarà presente anche il maestro Martoglio, Fabio Martoglio, che ha arrangiato migliaia di canzoni per i musicisti italiani, nazionali ed esteri. Dicevamo, sarà presente anche un banchetto, diciamo una cena a buffet, programmata dai nostri chef, ormai in sinergia con le band, i nostri amici Claudio e Gabriele. E ci sarà anche una lotteria, lotteria con dei premi, regalateci da ditte preziosi in Arezzo e con dei preziosi regali, con biglietti che costano, come sappiamo, poco e niente. Quindi interventi numerosi, non soltanto per scenare e per ascoltare la musica, ma anche per questa lotteria importantissima. Un'altra serata di beneficenza, purtroppo, o per fortuna, la città c'è molto vicina perché abbiamo tanto bisogno. Noi stiamo adeguando la nostra struttura alle normative, quindi in un primo momento verrà installato un ascensore, seguiranno altri lavori, quindi ci vogliono tanti soldini e vanno raccolti anche così. Grazie.